Il diritto del lavoro Il diritto del lavoro, in fondo, su che cosa si basa? Qual era la specificità del diritto del lavoro nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale? Si basa su un'idea molto semplice. Io vorrei dire alla nostra Presidente, che non mi sta guardando, di controllare i miei tempi, perché... No, no, ad un certo punto, so già che o colgo dal volto dei presenti che è ora di finirle, e se invece la vostra cortesia è tale da non sbadigliarmi proprio platealmente in faccia, allora è compito del Presidente intervenire.